La Camera di Commercio di Ascoli Piceno, in collaborazione con l'azienda speciale Piceno Promozione, presieduta da Gino Sabatini, ha affidato alla società inglese Special Project lo sviluppo di un'indagine qualitativa del territorio, con l'obiettivo di analizzare le peculiarità tradizionali ed emergenti del tessuto economico della provincia di Ascoli. Nella prima fase, appena conclusa, sono state condotte interviste maggiori stakeholder locali, con l'obiettivo di acquisire informazioni utili sui punti di forza e di debolezza delle diverse realtà economiche, sociali, industriali e culturali. Abbiamo alcune idee, sono molto buone, quindi ci stiamo già orientando verso qualcosa, ma questo sarà il risultato di una fase successiva del lavoro.